Benvenuti! Salve a tutti! Nuova World of Glory questa volta stagione Nuova, con gioco nuovo Mike Winchell, Ole Miss Abbiamo saltato tutto il periodo del High School Per una sola ragione Semplicemente perché le afferenze di giocare Non hai registrato niente Comunque stagione piuttosto interlocutoria Del ragazzo del senior year Esce fuori al primo turno dei playoff Ma nonostante tutto Riesce a ottenere una borsa di studio Per un Division 1 Pensa Nonostante tutto Sceglie di andare a Ole Miss perché? Perché gli offre il posto titolare del suo anno freshman Anziché farsi la panchina e ammuffire chiappe Da qualche parte seduto Preferisce giocare Questa è la terza giornata Inizio della quarta partita Della quarta settimana E' andato subito 2-0 Dimostrando buone capacità Qui lo vedete in allenamento Nel frattempo Novità di questo titolo C'è l'Exp Facendo allenamenti guadagnate l'Exp L'Exp la potete utilizzare Per aumentare le vostre statistiche O per un game O poi ve lo faremo a vedere Comunque Novità importante è l'Exp Allenarsi Vi fa aumentare l'Exp Un po' come un MMO Infatti ecco Vi facciamo vedere C'è la gara con il Georgia Bulldog Queste che vedete Sono le skill upgrade Avete 4600 punti Potete scegliere Come combinarli Con cosa aumentare Un boost La carriera Un boost solo per una partita Vi dicevo Dopo una bella partenza 2-0 Perde subito Un rivalry game La settimana scorsa E adesso deve affrontare Il Georgia Bulldog E' un po' demoralizzato quindi Diciamo che dimostra il fatto Che un freshman Fa fatica Non è che questa squadra Sia eccezionale Però Lui fa abbastanza fatica Qui vi faccio vedere Quando si usano i boost Ma c'è il morale Come voce Si 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 abbassa E appunto Siamo 2-0 Ovviamente Il Georgia Bulldog Sono una squadra Stava molto Più forte Ecco il nostro ragazzo Che entra in campo Novità di quest'anno Anche La possibilità Di vedere Gli ingressi Delle squadre originali Ci sono Questa è una cosa Che mi piace tanto E un'altra cosa Che mi piace Che cosa La banda Ecco vedete Questo è l'ingresso Vero Degli Ole Miss Rebels Ricordiamo che È passato qualcuno Come Ellie Manning Si Per ricordare Un lavoro fantastico Si molto Piove Questo non Non depone A nostro favore No Diciamo che Il ragazzo Potrebbe avere problemi Infatti Primi lampi Della partita Riflessi firmati Come dicono Quelli che sono Le lingue Siamo già sotto Di sette Ecco un sac Miciniale E il primo quarto Diciamo Che il pass rush Di questa squadra È assolutamente Imbarazzante Rientriamo Con le immagini E siamo sotto Di 23 Ci sono due quarti Immaginato nulla Due quarti Cambiano la partita Allora Copertura sul pass Straordinaria Ah Quando sbagliate Vi tolgo nei punti Quando fate una cazzata L'ex vi viene detratta Amico mio E quindi io faccio La senti la suonata Come si dice Da queste parti Guardate di nuovo Intercetto Perché io Cercare di fare i numeri Anziché Delle consistenze All'attacco Non la pianto mai Rientriamo E siamo sotto di 30 Così imparo A lanciare l'intercetto Ma voi direte E' un bagno di sangue E' il secondo quarto Chiedilo a Brady Che due quarti Fa una differenza Ecco qui poi Dal cilindro Ogni tanto Qualcosa lo caccia Tiro fuori il numero E batto il record Della NCAA Per il più lungo Passaggio per TD Ah Quando fate le cose buone Ricevete i spunti Direttamente delle skill Cioè vi aumentano Direttamente delle skill Guardate Sono 4,11 Per 106 44 a 7 Quarto Quarto È iniziato Diciamo che le speranze Il pubblico è a muto dito Ve lo possiamo assicurare Noi cari Sentivamo l'audio E cosa penso di fare bene qui Un altro Nel tercetto Yeah Stango di essere Non è un solo stango di essere punito Dai cornerback De Georgia Bulldogs E faccio anche L'incazzato Cioè vengo punito Due volte Sulla stessa Traccia Della parte opposta I massimi 47 a 7 Finisce questo In un terribile Bagno di sangue Che ci porta 2 a 2 In stagione Niente di compromesso Prendere 47 punti 40 punti di scarto Dai Georgia Dà veramente fastidio A me mi ha dato molto fastidio Ecco guardate Quali play of the game In mio sacco Ho ricevuto Una valica di schiaffo In questa parte Anche Guarda i poveracci Questi del pubblico Perché poi è successo in casa Cos'è successo on the road Vabbò Ci sta Infatti gli altri Dico guarda È colpa del cuore Perché ho un pirla Che vogliamo fare Eccomi che mi dispera Il nostro equilice Si dispera Ma c'è poco da fare È andato oramai Sì Ricordiamo anche Che per questa stagione Di Road to Glory Abbiamo scelto Personaggi che vengono Da film e o Serie TV Ispirati a football Questo è il Quarterback Vabbè grazie Che si bulla Bravi tutti Ho scoperto poi Un'altra cosa Che avrei potuto Utilizzare i roster veri Della NCAA Però non sono stato capace Ancora di trovarli bene Quelli mi piacevano Per caricarli Poi fanno Uno studio Studierò Ovviamente i Road to Glory Che sono già partiti Non possono sfuggire Di questa cosa Che sono già partiti Abbiamo diversi Road to Glory Questo è solo Il primo appuntamento Qui mi bullo Per un Per i pochi passaggi Per l'unica azione Decente che hai fatto Credo di essere andato 5 su 13 Una cosa del genere Una serie vergognosa E anche piccolino Diciamo che Fisicamente Cede un po' troppo Però Eh però L'amico qua Deve crescere ancora Deve crescere tanto Perché il 2 a 2 Non deve poter sfruttare Certo il suo anno di fresh Perché ne faceva un brutto tempo Comunque Ci salutiamo Ciao Ciao